E non ci siamo proprio ragazzi, non ci siamo, confusione totale, terza sconfitta, gestione della partita che non è accettabile per tutti gli errori commessi, una serie lunghissima di errori già dalla formazione iniziale, comunque mandi in campo senza fare il turnover necessario, gente che è affaticata, poco reattiva come Mkhitaryan, lo stesso Bastoni, Acerbi che comunque ha fatto una partita, mi risulta anche difficile dare dei voti, formazione iniziale sbagliata, Udinese lo sapevamo, un'altra intensità, un'altra fisicità, pronti via, a parte anche parentesi sull'arbitraggio che ogni fallo ha dato ben quattro gialli nel primo tempo, pronti via Barella e Mkhitaryan, pronti via dico Bastoni e Mkhitaryan ammoniti a sinistra lì, non si riusciva a chiudere, non si riusciva a gestire, poi non si capisce, hai delle soluzioni mancine, perché devi mettere in difficoltà Darmian che comunque ha fatto quello che riesce sempre, si è conquistato la punizione con cui Barella aveva segnato un grandissimo gol, va in vantaggio subito, mi ritornano in mente derby, mi ritorna in mente Bologna, quante me ne ritornano in mente, va in vantaggio subito e poi iniziano le difficoltà dopo il gol, tutta un'altra intensità, un'altra condizione atletica, anche questo è un bel punto di domanda, sembravano, non sembravano, andavano al doppio quelli dell'Udinese, nessuno riusciva a fermarli, a contrastarli e poi le solite disattenzioni difensive, forse una spinta su Geco in occasione del pareggio con autogol di Skriniar, anche la fortuna poi ci si mette di mezzo, traversa di bastoni, poi i cambi e dai cambi secondo me la squadra ha iniziato a proprio a navigare in un mare in tempesta, non capendoci più nulla, difficile venirne a capo, anche nell'intervallo ha cercato di ridisegnare qualcosa, prima parte di ripresa malissimo, poi sembrava che la squadra quasi avesse ripreso in mano la partita con quel colpo di testa di Dumfries ancora schiacciato a terra come contro la Lazio, un colpo di testa che sarebbe stato sempre gol senza schiacciarlo, un'altra conclusione di questo genere, gol annullato per un fuorigioco di poco a Geco che avrebbe cambiato qualsiasi cosa, poi inizia la galleria degli orrori, Brozovic si fa ammonire anche lui, diffidato salterà la Roma, anda salva su Lovric con Brozovic, anche lui che gli regala il pallone, fa una gran parata ma poi non si capisce più niente, entrano D'Ambrosio per Darmian e Correa per Geco, Correa che ha fatto mezza azione, non si è visto mai, Lautaro anche lui desaparecido, altra partita la quinta senza segnare, senza mai tirare in porta, anche se su quell'ultimo scontro con Silvestri lo anticipa e poi il portiere gli frana addosso, un Inter che viene graziata sul palo con Andanovic completamente immobile, poi da una serie di salvataggi e poi non si capisce, non si capisce assolutamente, il cambio devrai per Acerbi quando devi cercare di sterzare, di dare una scossa ulteriore, servirebbe qualità, servirebbe qualcosa di più, anche se mancano, mancando Cialanoglu, mancando Lukaku, è chiaro che ti guardi in panchina, c'erano solo i giovani che non ha voluto rischiare di buttarli in campo, però anche lì devi avere un minimo di coraggio, un devrai che probabilmente si aspettava di giocare dopo aver saltato la Champions, che entra con la testa completamente sbagliata, stralunato, regala incredibilmente un calcio d'angolo da cui poi dopo si perde il suo diretto marcatore, Andanovic ancora immobile sulla linea di porta, piantato sulla linea di porta e arriva il 2-1, dopo non si ne capisce più nulla, arriva anche il 3-1, colpo di testa centrale, completamente liberi nell'area. Una situazione che è sfuggita di mano, va bene tutto, che la Champions lascia scorie, che l'Udinese era la squadra più in forma del campionato, però anche una gestione così confusa poi porta a questo tipo di prestazioni. Non ci siamo, confusione totale, squadra che non sapeva bene neanche che cosa fare, condizione atletica tutta da rivedere, sperando che la sosta guarisca, adesso comunque bisogna cercare di recuperare Cialanoglu soprattutto, oltre a Lukaku, con la Roma e mancherà Brozovic, voglio vedere quale sarà la gestione anche qui, chi manderà in campo, se si fiderà di Aslani ma non credo, se si inventerà un Mkhitaryan come centrocampista centrale, poi comunque chiaramente Bastoni e Mkhitaryan sostituiti così presto per questa fobia del cartellino rosso che, voglio dire, i giocatori dovrebbero riuscire a gestirsi anche se su quella fascia sinistra lì non tenevano più, però non ci siamo assolutamente. Una brutta, brutta partita, confusione come abbiamo messo nel nostro titolo. Pagellone, Andanovic ha fatto una parata ma poi è tornato piantato a terra, non puoi neanche provare la parata, neanche buttarti, non è non è accettabile quando poi c'è uno nana che in confronto a lui è un gatto con una reattività che non c'è paragone, anche se col Torino aveva fatto molto bene però non puoi prendere quel gol lì a zero all'ora colpo di testa piazzato e tu non provi neanche a muoverti. Quattro e mezzo, Skriniar anche lui in gran confusione oltre all'autorete però non è il vero Skriniar, non è il vero Skriniar. Cinque, Acerbi, non è che abbia fatto chissà quali errori, non l'avrei mai fatto giocare visto che l'avevo detto anche stamattina, avevo grossi dubbi, l'avevamo notato durante la rifinitura che Inzaghi continuava a metterlo insieme ai titolari che era forte la possibilità che giocasse ancora però anche lì devi gestire i tuoi giocatori, dopo tre mesi ha fatto 90 minuti ma poi non hai neanche rispetto per un De Vrij che è sempre stato comunque un elemento importante e lo panchini per la seconda volta di fila come se fosse colpa sua le difficoltà difensive di un reparto che invece fa acqua perché è la squadra che non corre, che non funziona. Bastoni cinque, in grossa difficoltà lì a sinistra, prende quella traversa però non è neanche lui il vero Bastoni, Dunfriss non ne parliamo, a un certo punto sembrava veramente giornata completamente in difficoltà, ha dato un minimo, un po' di reazione nella seconda parte della ripresa ma anche lì non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Cinque Dunfriss, cinque bastoni, Barella gli diamo sei e mezzo per quel bellissimo gol, già il secondo notevole anche quello però mancano i leader in campo che trascinano la squadra che la guidano nei momenti di difficoltà, Brozovic quattro e mezzo, palloni regalati, falli, l'ammunizione pesantissima, quattro e mezzo anche lui, cinque Mkhitaryan si vedeva che non ne aveva però anche lì, prova, prova a Slani, prova al giovane, bisogna rischiare, avere coraggio l'abbiamo detto. Darmian sei, ha fatto il suo, ha conquistato la punizione, poi cosa si può chiedere a chi gioca fuori posizione? Dzeko ha combattuto, avrebbe fatto anche un bel gol, meglio lui di Lautaro che non si è visto mai, darei sei a Dzeko, cinque a Lautaro, quattro a Inzaghi per la gestione confusa di tutta la partita, dalla formazione alle scelte a questa paura dei rossi. Gagliardini non mi sono accorto che sia entrato cinque, di Marco, cinque e mezzo, ha provato un po' a resistere, a spingere, deve giocare esterno, non può fare il braccetto, finiamo con questo equivoco, D'Ambrosio per un po' ha retto, ha fatto il suo, di Marco diamo cinque e mezzo, cinque e mezzo ad Ambrosio, Correa ha fatto una mezza azione, poi niente per tutta la partita, cinque, quattro, quattro devrai che però non andava messo in campo così a freddo contro una, una squadra che spingeva così tanto, così fisica, così veloce, non lo mandi, non lo mandi in campo negli ultimi, nel finale, ma poi che, che messaggio dai sul, sul pareggio a mandare in campo devrai. Qua sto cercando di capire, cioè, e ha fatto una frittata, ha regalato il corner e poi si si è fatto anticipare da Bijol sul corner che è costato poi la partita, grave errore e un devrai che doveva entrare con un'altra, un altro piglio. Piuttosto fai, cambia, cambia modulo, passa a quattro, fai D'Ambrosio e screener centrali, metti un esterno, metti Bellanova, ma devrai in un Inter così in confusione, in difficoltà anche atletica e fisica, è qualcosa, un suicidio. Adesso, chiaramente, bisogna ripartire, c'è la sosta, ci sono tanti scontri diretti che potrebbero comunque non cambiare di molto la classifica, Roma-Atalanta, c'è Milan-Napoli, vedremo che succederà, bisogna recuperare Lukaku e inserirlo, bisogna trovare una soluzione all'assenza di Brozovic e non esiste che Aslan giochi così poco, siamo d'accordo, ma soprattutto ripartire di testa e con lucidità perché in questa confusione è molto difficile e rischio è quello proprio di naufragare. Brutta domenica, spiazze, però così non va bene, non va bene, appuntamento stasera in live, mi raccomando, e poi domani mattina sempre tra di noi per capire, analizzare quello che è successo, come se ne può venire fuori, sapevamo che sarebbe stata difficile, era iniziata bene, come spesso l'Inter è riuscito a fare, ma poi si è persa ancora in un bicchier d'acqua e non va bene, non ci siamo, adesso chiaramente in zaghi out a manetta e anche ha ragione, vista la prestazione e quello che si è visto in campo, però si deve andare avanti per forza e sfruttare questa sosta per portare qualcosa di buono a casa che oggi non è arrivato. Buon pomeriggio!